Il Vescovo li chiama fratelli e sorelle, sono i migranti e sono al centro di una delle più grandi sfide che il nostro tempo si trovi ad affrontare. Il difficile fenomeno della migrazione, nel senso che noi non riusciamo di fatto a realizzare un'accoglienza nei confronti dei migranti che sia sufficientemente veloce. Integrazione, parola scomparsa dal vocabolario dell'accoglienza, Monsignor Bugnotto non nasconde una visione fortemente critica. Devo dire che l'impianto che attualmente è in atto dal punto di vista legislativo, normativo, sembra remare contro un'accoglienza che sia integrazione, un'accoglienza che sia anche possibilità di un cammino di autentica speranza. Dico questo perché quello che viene messo a disposizione, ad esempio per i centri di accoglienza straordinaria, è poco più che sufficiente per offrire un letto e un po' di cibo. Imparare un lavoro, imparare una lingua, strumenti di vera integrazione ora negati dal decreto Cutro. Non è anche molto rispettoso applicare quanto il decreto Cutro ha oramai introdotto anche con un ultimo provvedimento del ministro dell'interno, dove si devono liberare i centri di accoglienza straordinaria da quelle persone che hanno per esempio già un lavoro. E senza prospettive sempre più persone finiranno ai margini, nell'invisibilità. Questo sarà motivo di preoccupazione dal punto di vista sociale. Parole contenute in una lunga intervista che sarà trasmessa integralmente su TVA venerdì 8 settembre alle 11.15 in occasione della festa di Monteberico.